Prima degli appuntamenti parliamo del Virgo Fidelis, oggi c'è stata la celebrazione, è la patrona dell'arma dei carabinieri presso la cattedrale di San Marco a Latina, come state vedendo, la cerimonia ufficiata dal vescovo della diocesi contina Mariano Crociata, c'erano le autorità civili e militari, il comandante provinciale, ma anche i carabinieri in servizio, i carabinieri in congeto dell'intera provincia, anche l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di San Baudia per fare un esempio, a margine della funzione religiosa, anche la targa di riconoscimento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell'Arma dei Carabinieri al dottor Daniele Antonio Cenerelli, il figlio del defunto maresciallo Salvatore Cenerelli, che fu comandante della stazione di Castelforte fino al 1999, il tutto si è svolto questa mattina a Latina presso la cattedrale San Marco. E adesso andiamo con gli appunti...